Se avessimo giurato la metà di quanto abbiamo giocato adesso a Dortmund, avremmo sicuramente passato il turno. Sono molto vicino al pubblico che ci è stata vicina prima. Siamo andati vicini, abbiamo avuto nella prima volta molte occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle. E' quello che potevamo cercare di fare, poi non è stato più possibile.